Sicuramente questo sarà un video molto interessante, come sarebbe la Formula 1 senza la Ferrari? Parliamone, sigla! Benvenuti, eccoci qui in questo nuovo video dal vostro FabiGamer90 Oggi torniamo a parlare di Formula 1 E in questo video vi andrò a dire secondo me come sarebbe la Formula 1 se non ci fosse la Ferrari Prima di partire vi ricordo sempre il like, l'iscrizione perché sapete per voi è gratis ma per me è veramente molto molto importante E dai ragazzi arriviamo ai 500 iscritti, ormai manca veramente poco, non manca molto, mancano pochi iscritti Allora, questo è un video che mi è venuto in mente proprio di fare Ed è secondo me un video interessante Sappiamo che la Ferrari è in Formula 1 ormai da una vita, dal 1950 E sappiamo la storia della Ferrari, una delle scuderie più dominanti della Formula 1 La scuderia che ha vinto di più in tutta la storia della Formula 1 E poi vabbè, essendo oltre tifoso, poi di fare un marchio come Ferrari è veramente qualcosa di bellissimo E anche di emozionante, se vogliamo dirlo E purtroppo, vabbè, gli ultimi anni della Ferrari non sono stati chissà quanto brillanti Tra, vabbè, regolamenti tecnici, sicuramente un po' a favore sappiamo di chi E purtroppo Ferrari ormai gli manca il titolo piloti dal 2007 e il titolo costruttore gli manca dal 2008 E quindi ormai sono passati veramente tanti 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 anni E purtroppo, come detto, non è bello vedere una Ferrari così, soprattutto essendo tifoso Ma come sarebbe la Formula 1 se non ci fosse la Ferrari? Allora, se togliamo la Ferrari proprio Facciamo che non avesse debuttato per niente in Formula 1 nel 1950 Non avesse mai corso in Formula 1 Io credo che se la Ferrari non avesse mai corso in Formula 1 Io credo che la Formula 1, quella che conosciamo adesso, non sarebbe la Formula 1 che conosciamo adesso Una Formula 1 che sì, sicuramente ha perso spettatori Per via di questi domini, di Mercedes e di soprattutto Red Bull Però io credo che se la Formula 1 è popolare oggi Sicuramente bisogna ringraziare la Ferrari Perché la Ferrari praticamente ha, con tutto il suo dominio, con tutto il suo rispetto Con la sua famosità ha portato veramente la Formula 1 all'apice E lo sappiamo molto molto bene Soprattutto nell'era Schumacher, in Ferrari Nella vittoria del titolo di Kimi Tanti piloti che sono andati in Ferrari E una parola che disse Schumacher Non ti puoi definire campione del mondo quando non vinci con la Ferrari E credo che questa sia una frase veramente molto molto iconica E che è una frase veramente bella Che disse ai tempi in cui dominava con la rossa Quindi la Ferrari è stata una scuderia Ed è una scuderia che a volte ci fa sognare E a volte che ci fa soffrire e sclerare Però a quei tempi dove la Ferrari dominava Era una scuderia che ci faceva sognare a tutti i nostri tifosi Ferrari Lo sappiamo tutti molto bene Io credo una cosa Che secondo me Se non ci fosse mai stata la Ferrari in Formula 1 Io credo che la Formula 1 non sarebbe quella che è oggi Non avrebbe la popolarità che avrebbe oggi E sarebbe uno sport secondo me meno seguito Che non avrebbe tutti questi spettatori E quindi soprattutto io credo che FIA e Formula 1 Deve ringraziare soprattutto questo Perché si Mercedes è un altro marco importante Red Bull lo è pure Allora non sto dicendo che se la Ferrari non ci fosse in Formula 1 E se non ci fosse mai stata La Formula 1 non avrebbe avuto nessun spettatore Assolutamente no I suoi spettatori ce l'avrebbe avuti Questo è più che normale Però come dico Secondo me non avrebbe avuto Tutta la popolarità che c'ha oggi Quindi come detto Ci sono marche importanti Come Mercedes Come Red Bull Come McLaren soprattutto Che è anche un'altra grande scuderia Che ha fatto anche lei Quasi Non proprio come Ferrari Ma anche lei ha fatto Una bella storia in Formula 1 La Williams In primis Quindi Però secondo me Diciamo Se poi parliamo di Mercedes E Red Bull Si sono due marchi molto molto importanti Che sono molto seguiti Però secondo me Non hanno la stessa famosità Che ha una scuderia come la Ferrari Sappiamo La Ferrari è riconosciuta in tutto il mondo E Da diciamo Dall'Italia Fino tipo In Malesia Fino in Arabia Saudita Se vogliamo dire così E quindi Allora Non sto dicendo Che diciamo Che Mercedes e Red Bull Sono due marchi Che fanno completamente schifo Assolutamente no Hanno la loro famosità Sappiamo Mercedes è un marchio importante Red Bull è un marchio importante Perché vabbè Oltre a vendere lattine È uno sponsor Molto molto riconosciuto Soprattutto in America Però come detto Ferrari Secondo me A livello di marchio Ha qualcosa Ha molto di più rispetto A un marchio tipo Come Red Bull E quindi Ehm Secondo me La Formula 1 Se oggi Non ci fosse la Ferrari Un Formula 1 Io credo che la Formula 1 Non sarebbe La Formula 1 Che conosciamo Oggi Quindi In questo video Vi ho detto Una mia semplicissima Opinione E vi ho detto Come detto Una mia opinione Ditemi sotto i commenti Cosa ne pensate Secondo voi Come sarebbe La Formula 1 Oggi Senza Se non ci fosse Per niente La Ferrari Ricordo Il like Per continuare A supportare Tutti i prossimi video Che usciranno Su questo canale Ricordo anche L'iscrizione Perché sapete Per voi è gratis Ma per me Veramente Molto molto importante Vi ricordo anche Di attivare la campanellina Per ricevere le notifiche Di tutti i prossimi video Che usciranno E che dire Dal vostro FabiGamer90 Passo E Chiudo